Lei era una curiosità mia, nelle tue telecroniche parli spesso dei terzini, mi sembra che sia un ruolo che ti stia molto a cuore. È il ruolo più evoluto nel calcio moderno, il terzino è il ruolo dove spesso c'è l'uscita più qualitativa della squadra. Chiuso il difensore centrale, il centrocampista centrale, le grandi squadre non possono fare a meno di un terzino barra due di qualità che sappia impostare, sappia dribblare, sappia imbucare e abbia la capacità, quando arriva nei tre quarti avversari, di essere decisivo. L'avversario spesso manda la grande squadra a costruire sull'esterno e non esiste una grande squadra che non sappia come uscire senza buttarvi il pallone. Il terzino è fondamentale, è il ruolo più cresciuto e infatti i grandi allenatori impostano la fase offensiva partendo dai due terzini.